ciao ragazzi questo è un video corto ma speciale perché trattiamo due cose importanti la prima è che volevo assolutamente ringraziare tutti voi per il sostegno perché sto vedendo che il canale sta crescendo piano piano e questo è grazie a tutti voi alla partecipazione che mettete nel commentare i video le richieste il sostegno che mi date quindi questo mi tocca particolarmente quindi volevo ringraziare veramente tutti perché mi dà veramente motivazione per andare avanti e che vuol dire che il lavoro che sto facendo è quello giusto quindi niente volevo condividere questo con voi perché grazie a voi se sim drivers come canale youtube funziona e va avanti insomma quindi grazie mille a tutti e poi volevo anche anticiparvi quello che sto preparando nella speranza che vi sia di gradimento prima cosa parleremo di forza motorsport 7 come vedete qua dietro ho scaricato già la demo e sto cercando di approfondire al massimo alla fine ho ceduto ragazzi siete più forti di me non c'è nulla da fare quindi l'ho scaricato ci ho provato un pochettino oggi non vi anticipo nulla per quanto riguarda le mie opinioni in merito e in più ho ceduto anche al suggerimento che mi ha fatto Stefano uno dei ragazzi che mi segue e ho scaricato automobilista quindi due argomenti che saranno motivo di fare dei video spero sempre di vostro gradimento quindi ancora una volta grazie ragazzi e come di consueto se non l'avete già fatto iscrivetevi lasciatemi un pollicino in su se questo video anticipazione vi è piaciuto vi abbraccio tutti vi ringrazio ancora una volta per avermi seguito al prossimo video da Fabrice ciao